Un riconoscimento di merito per gli uomini del Vigili del Fuoco e quelli della questura di Pescara. Il sindaco Marco Alessandrini ha voluto insegnare, con un attestato, il lavoro compiuto lo scorso mese di luglio durante un incendio divampato presso un supermercato nelle prime ore di una mattina di domenica. Incendio che rischiava di coinvolgere anche i residenti della zona. La cosa più preoccupante era che i fumi e i gas tossici che propagavano verso l'alto stavano interessando le abitazioni del palazzo sovrastante. Per cui il personale Vigili del Fuoco, con la collaborazione e con l'aiuto del personale della questura di Pescara sono riusciti a contrastare le due situazioni di pericolo, quella dell'evacuazione delle abitazioni sovrastanti e lo spegnimento delle fiamme. Quattro ore di lavoro per concludere l'operazione, oltre dieci Vigili del Fuoco e tutti gli uomini della questura di Pescara. Un intervento rapido e efficace sia della Polizia di Stato che dei Vigili del Fuoco che hanno operato in sinergia, come spesso accade, salvando delle vite umane da un pericolo in quel momento in atto e anche serio. Un riconoscimento da parte dell'amministrazione comunale a cui noi esprimiamo la nostra vicinanza e riconoscenza a nostra volta.